Musica Ui la gente, sono andato E si, eccoci ancora qua su Mv3 Però questa volta non sarà la solita partita Ma sarà un outmap su operazioni speciali Perché mi andava un po' di variare dalle solite partite Così così, quindi dai vi porto questo outmap Outmap glitch, boh Non so come chiamarlo, però vabbè, comunque ci siamo capiti E praticamente è stato giocato in una missione che era Eh no, non mi ricordo che missione era Però ve lo scriverò in descrizione o nel titolo Comunque questo glitch, outmap, vabbè, chiamatelo come volete E non è tanto difficile, anzi è piuttosto semplice Quindi ve lo consiglio di fare Perché tanto alla fine è divertente E non che lui sia patchato, anzi l'ho fatto qualche giorno fa Quindi se casomai lo patcheranno ve lo segnalerò Ma state tranquilli che non è patchato per ora Allora, questo outmap, vabbè sì Questo video praticamente dovete stare ad arrivare quasi fino alla fine Della missione Quindi adesso state vedendo la mia partita Velocizzata perché se no non finiva più E sì, c'è tutto questo pezzo da uccidere qui I miliziani, i militanti, o come cacchio si chiama Terroristi, o come cacchio si chiama Uccisi tutti questi qua, arriverete quasi alla fine Eh sì, Bride Liger vuole giocare a Mv3 Vabbè, e dovete arrivare alla fine della missione Ucciti dal tubo E usciti da questo tubo, sulla sinistra Vedrete questa... Beh, lo vedrete insomma Comunque, per parlare del video Volevo chiedervi se vi piacciono questi outmap glitch Come minchia si chiamano Ve ne posso portare tranquillamente altri perché ne ho ancora Quindi se vi piacciono ditemelo e ne porterò ancora Comunque ecco, siamo arrivati alla parte del... qua, dove dicevo prima Ecco, lui sale su quella piattaforma Poi... si, casca Sale sulla piattaforma Ti sale su quella ringhiera Qui si chiama ringhiera Poi bisogna saltare verso quell'albero Come avete visto adesso non ci è riuscito perché... Cioè, non è né difficile né troppo semplice Però dopo un po' ci si riesce Ecco, tocca a me ora che faccio fail Perfetto Ecco che... va bene Ok, riaccomi qua Perché dopo vari tentativi falliti Ho dovuto tagliare se non finiva più Comunque, vabbè, non ci vuole tantissimo Solo che... Era la prima volta Allora, venite di solo la ringhiera La di sopra l'albero bisogna saltare sempre... Premite da velocemente fino ad arrivare... A un limite che non salirete più su quell'albero Poi lentamente appoggiati alla parete Camminate tranquilli E poi saltate giù Come avete visto E l'automap è fatto Praticamente E sì, qua stavo aspettando Il mio compagno di avventure Il... Xe Phantom Che mi ha mostrato questi automap Quindi adesso aspettiamo Il mio compagno di avventure E poi potremo andare a esplorare Il... L'ampio spazio Che è a disposizione Comunque, se il video vi è piaciuto Vi ripeto Scrivetelo in un commento Se ne volete ancora E se vedo che piace E ne faccio altri E... Il video praticamente è concluso Adesso si andrà a fare Un bel giretto Per... Gli ampi spazi aperti Della... Della mappa Giusto Dimenticavo di... Ringrazio i 300 iscritti Che per me Credo anche per Compox E gli altri Sia Un gran traguardo Perché ci abbiamo messo fatica Comunque E noi crediamo in questo canale Quindi vi ringraziamo ancora Seguitici Perché Siamo... Abbiamo tante idee Da portarvi Tanti video Quindi Il video è concluso Un saluto da Dado E al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.